Ok, Ari facciamo la trasformazione, vedi, Angward, trasformazione, e lo stacco! Padre, sto per iniziare l'ultima battaglia con Doppler, gli darò il colpo finale, è un nemico non solo per noi, ma anche per l'umanità. Padre, finalmente abbiamo visto Prometeo, guarda, quello che splende è il sole di Prometeo. Prometeo è proprio oltre il sole, l'immagine di Prometeo sullo schermo era azzurra, era proprio meraviglioso. E via, razza di sfaticati, voi e le vostre stupide idee! Che diabine, è Natale! Mi faccio contenti, non dica di no, lei è un buono! Buono io? Il cielo gliene renderà merito! Ci vediamo dai McAfee, Nannora! La medicina è in buone mani, dottore! E voi seguitemi, figlioli! Conosco una scorciatoia! Il fiume! Non dica io, sì, e faccia qualche cosa! Sto pensando! Che fa troppo caldo! Ci vorrebbe qualcosa di... di fresco! Sì! Me lo aspetta di toccare quel ghiaccio! Ah! 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 No! Ah! No! 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 E per me? Non c'è niente per me! Sì, arragi! Ci sono anch'io, ragazzi! Muoviamoci! Dove l'hai preso, Kalman? Lana! È il timore! Ci siamo! Dopo quel ponte c'è il mulino dei McAfee! Ce l'abbiamo fatta! Cimenti! Tappo! Un'altra idea brillante! Allora, dottore? Sei la cavera! Ed è solo grazie a voi! Avete fatto un miracolo! Io... io non so come ringraziarvi, davvero! Beh, un'idea ce l'avrei! Un'altra? Un'altra? Mettimi giù subito! Davami forti! Lasciami! Ai... Ma allora era soltanto un incubo Che paura ho avuto Se sapessi usare il mio boomerang non farei più sogni del genere Aspettate un momento voglio andare io Parlo sul serio non sto scherzando Abbi fiducia in me non te ne pentirai Affidami questa missione a Kela E' fuori discussione Mogli E' troppo pericoloso per te figliolo Ti ha dato di volte il cervello? Un moscerino come te non può sperare di farcela Se non mi lasciate provare come fate a dirlo? Vi dimostrerò che ormai sono diventato grande Voglio fare anch'io la mia parte Ci tengo troppo per questo ve lo chiedo Non dirmi di no a Kela affida a me questa missione Ma cosa è successo? Parla voi Che hai? Che che? Rispondi Gli uomini secondo te sono davvero creature tanto malvace Ah! Ah! Grazie a tutti.